Capitao Cosa? 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 Perchè? Vabbè dai moderato possiamo farcela Proprio se io l'ho fatta quello dello studio No Ok No No Non è rubato Proprio se io l'ho fatta Vai Ok Arriva Dove? Pingali Arriva Eh prima mi avevo una testa No 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 Senta Sa 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 Ah S'ha portata a casa E poi si è a casa Adesso tornare a casa Sono munizioni quelle là Sì Guarda che prendiamo munizia Tu le prendi o sei a posto Oh madonna Qua te l'ho scoperto No Sono qui Ah ok Ah guarda quel nido là sotto Trovate munizioni Trovate munizioni Trovate munizioni Sotto non c'è Niente Palistra Una smoke Una smoke Cos'è triangolazione Ok Qua c'è un altro qua dentro Qualcuno ci ha sentito Madonna quanti sono Ok Dove 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 No 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 Questo ne ho colpito Quello wifi Non c'è da dirlo Un altro smagno qua Dai Vai, 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 eh, eh, eh Aiuto Nido Aiuto? Aiuto? Nido qui C'è uno sotto qui, ah, che lo ce l'ho Allora, sta che rompe il mutuo Eeeh Madonna La vita m'ha tolto Eeeh È la C questa Vabbè, allora io ti volare, ci dice dove è la B Beh, ti volare, ci dice dove è la B Eh, aspetta che Sono pieno Eh, sono pienissimo Eh, aiuto? No, no, ok, fatti, fatti Mi sono messo in collate, ora Vai, attivo questa Se ce la fai, se no provo a raggirarli da qua Ok, ce la fai, ce la fai Vabbè, tranquilli, ne abbiamo ancora 40 secondi Ci la fai, se no vengo Arrivo 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 Qua è chiuso Arrivo, 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 arrivo Ah, ma un minuto per tutte, eh sì Io pensavo che ogni, quando attivavi si attivava un altro minuto per arrivare là Oh, madonna Oh, madonna Oh, cazzo Vabbè, vabbè No No Ok, qua, ok Dai Oh, la monta delle hit la mamma, comunque Dai Aia Ma l'avevo uccisa No No, aspetta, dov'è? Ah, di là Figa Senti, la lascio grande, che almeno non la vedo Perchè la divido Ho fretta No Ah Usiamo la capsula di estrazione, porteremo l'operatore a casa Più lento, mi raccomando Mamma mia Ma che cos'è oggi?